Nessuno, Pietà delle Signore, è il titolo del suo nuovo libro che sarà presentato domani a Palermo negli spazi della Cidec. Sì, il libro appunto è un invito alle donne della letteratura a nord di manere nell'ombra. Infatti è citata anche Virginia Woolf nel suo famoso saggio Una stanza tutta per sé, in inglese Room of One Zone. E poi è anche un discorso sulle mie memorie, sui ricordi e sulle ingiustizie subite sul lavoro, che sono state molto gravi e mi hanno procurato anche un incidente non indifferente. E comunque, al di là di tutto, questo libro è importante per la varietà dei registri che sono contenuti. Infatti ci sono alcuni tratti prettamente poetici, altri legati appunto al flusso di coscienza ed altri invece prevedono una satira piuttosto pungente anche, che spero non ferisca, ma sicuramente che faccia prendere coscienza, alla maniera gioisiana, di quelle che sono le vere, l'importanza dell'insegnamento, della didattica vera e seria.